Eccoci e ben ritrovati per questo nuovo appuntamento con Spazio Notizia che apriamo parlando di cronaca partendo da Palermo e dai controlli effettuati dai carabinieri soprattutto per contrastare lo spaccio di sostanze stupefacenti. Il bilancio degli ultimi controlli parla di oltre due chili di droga sequestrati ma anche due arresti e due denunce. Per tutti i dettagli vediamo il servizio. I carabinieri del comando provinciale di Palermo hanno intensificato i servizi di controllo e prevenzione nel territorio con attenzione particolare alla lotta al traffico di droga. I militari del nucleo radiomobile hanno denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Palermo un 22enne palermitano per il reato di detenzione illecita di sostanze stupefacenti. Il giovane visto aggirarsi con circospezione nei pressi di un garage di sua proprietà al villaggio Santa Rosalia ha destato l'attenzione dei carabinieri che insieme ai colleghi del nucleo cinofili di Palermo Villa Grazia hanno effettuato una perquisizione rinvenendo circa 40 grammi di hashish nonché una bilancia di precisione e svariato materiale per il confezionamento della droga. I controlli del nucleo radiomobile sono poi continuati nel quartiere albergeria dove in un'area recintata i militari dell'arma hanno trovato quasi un chilo di marijuana e al vaglio la posizione di un trentenne palermitano che al momento del controllo è stato trovato nel luogo e ne aveva la disponibilità delle chiavi. In una separata operazione è stato ancora il fiuto infallibile di un cane antidroga del nucleo di Palermo a individuare oltre un chilo di sostanza stupefacente. I carabinieri della stazione Piazza Marina battendo palmo a palmo il quartiere Ballarò hanno recuperato, occultati in mezzo al verde pubblico, oltre un chilo tra cocaina, crack, hashish e marijuana. Sono quindi in corso le indagini per individuare i responsabili di questo deposito destinato ad approvvigionare la locale Piazza di Spaccio. Il nucleo operativo della compagnia di Piazza Verdi ha invece arrestato due giovani di 18 e 24 anni che sono stati colti in flagranza di Spaccio in Piazza Conte Federico nel cuore di Ballarò. Più di due etti lasci c'è trovato il loro possesso e circa 300 euro ritenuti frutto dell'illecita attività. Gli arresti sono stati convalidati dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Palermo. Tutta la droga sequestrata è stata inviata al laboratorio analisi sostanze stupefacenti del Comando Provinciale di Palermo per le verifiche ponderali e qualitative. Restiamo in tema, parliamo ancora di Spaccio di sostanze stupefacenti. Da Palermo ci spostiamo però virtualmente a Taormina dove gli agenti della Polizia di Stato durante un controllo hanno beccato e tratto in arresto un giovane pusher, una 22enne che trasportava delle dosi di cocaina. Vediamo il servizio. Un 22enne originario di Catania è stato trovato in possesso di circa 9 grammi di cocaina già suddivisa in 17 dosi pronte a essere smerciate nel corso di un controllo al casello autostradale di Taormina. I poliziotti hanno proceduto alla perquisizione d'urgenza del 22enne sul posto e dell'autovettura su cui viaggiava rinvenendo le dosi di sostanza stupefacente nella tasca dei pantaloni ben custodite all'interno di un pacchetto di sigarette. Rinvenuta nel portafoglio e sequestrata anche la somma di circa 900 euro in banconote di vario taglio, verosimile provento dell'attività di Spaccio. Il 22enne è stato pertanto tratto in arresto in flagranza di reato e come disposto dall'autorità giudiziaria, sottoposto agli arresti domiciliari in attesa a diritto direttissimo presso il Tribunale di Messina, all'esito del quale l'arresto è stato convalidato e contestualmente disposto l'obbligo di firma per l'arrestato. A Catania invece un giovane è stato arrestato dalla polizia, aveva chiamato gli agenti per un incendio ma è stato poi tratto in arresto per produzione di droga in quanto all'interno dell'abitazione gli stessi agenti della polizia di Stato hanno scoperto una coltivazione di marijuana. Vediamo tutti i dettagli del servizio. Nel corso dei servizi notturni di controllo del territorio, in seguito a una richiesta pervenuta al numero unico di emergenza da parte di un cittadino che aveva segnalato l'incendio della porta di casa, gli agenti delle volanti sono intervenuti in un'abitazione del popoloso quartiere Villaggio Sant'Agata. I poliziotti, giunti sul luogo indicato, hanno accertato che effettivamente la porta d'ingresso era stata danneggiata da un incendio innescato utilizzando liquido infiammabile. Gli operatori, insieme ai vigili del fuoco, hanno ispezionato l'interno dell'abitazione per verificare che non vi fossero ulteriori pericoli per l'incolumità degli occupanti e per controllare se le fiamme avessero interessato altre parti dell'immobile. Nel corso del sopralluogo però, i polizotti sono stati attratti da un forte odore di marijuana proveniente da una delle stanze della casa. Sospettando che il giovane, un 27enne catanese, detenesse illegalmente la sostanza stupefacente, hanno quindi proceduto a effettuare un'accurata perquisizione domiciliare. La ricerca ha consentito di rinvenire una mini serra artigianale installata all'interno di una stanza dell'appartamento, costituita da un armadietto grow box in tela, al cui interno vi erano sei piante di marijuana alte circa 60 centimetri e altre piantine in fase di crescita. oltre a due pannelli a led, un ventilatore, un timer, un aspiratore e un termoigrometro. Considerato quanto rinvenuto, gli agenti hanno arrestato il 27enne per il reato di coltivazione e detenzione di sostanza stupefacente del tipo marijuana, sottoponendolo ai domiciliari. Due invece le persone arrestate a Caltanissetta, in questo caso per furto in abitazione, gli agenti della Polizia di Stato hanno sorpreso e due malviventi dopo aver commesso il furto. La Polizia di Caltanissetta, a seguito di diverse chiamate pervenute in sala operativa, è intervenuta in via Serpotta, nel centro storico cittadino, poiché erano stati segnalati dei rumori provenire dal primo piano di un'abitazione. Due giovani, un 19enne e un 21enne, sono stati sorpresi dai poliziotti mentre uscivano dalla finestra dell'appartamento con un sacco. I due, alla vista degli agenti, hanno tentato di fuggire ma sono stati bloccati e condotti in questura. Gli stessi erano in possesso di diversi oggetti che sarebbero stati asportati dall'abitazione e che sono stati posti in sequestro. I due giovani, secondo la ricostruzione eseguita dai poliziotti, sarebbero riusciti a entrare nell'abitazione da una porta-finestra sfondata con un grosso vaso utilizzato come ariete. Entrambi sono stati tratti in arresto per tentato furto e ristretti ai domiciliari. Furto aggravato e ricettazione. Con queste accuse, tre persone sono state denunciate dai carabinieri a Ragusa. Per tutti i dettagli vediamo il servizio. I carabinieri della stazione di Ragusa-Ibla hanno scoperto tre diversi episodi di furto denunciati dalle rispettive vittime in queste prime settimane dell'anno e deferito all'autorità giudiziaria Iblea i relativi responsabili. Si tratta, nella fattispecie, del furto di alcuni monili preziosi da un'abitazione e il furto di un'autovettura avvenuti entrambi in via del mercato in danno di due diverse vittime e il furto di un telefonino cellulare rubato a un giovane dalla propria autovettura. I militari dell'arma, a conclusione delle indagini sviluppate attraverso il baglio dei sistemi di videosorveglianza pubblica, all'analisi dei tabulati telefonici e di una serie di controlli a tappeto presso sbariati commercianti del territorio, hanno scoperto e denunciato, per furto aggravato e ricettazione, tre pluri pregiudicati per reati contro il patrimonio, due di loro ragusani e uno originario del vittoriese e hanno recuperato la refurtiva restituendola ai legittimi proprietari. Nel caso dei preziosi, rubati durante il furto in abitazione ai danni di una cittadina ragusana, i carabinieri sono riusciti a intercettare i monili all'interno di un comprooro del capoluogo appena in tempo, prima che fossero inviati alla fusione. L'autovettura rubata a Ibla è stata invece rinvenuta in un'area rurale nei pressi di Vittoria, fortunatamente ancora in buono stato. Il cellulare, infine, è stato rinvenuto a seguito di una perquisizione promossa dai carabinieri in un'abitazione di Via di Stefano, mentre veniva utilizzato da un pregiudicato che l'aveva acquistato pochi giorni prima da un ricettatore. Cambiamo decisamente argomento, parliamo della capitale italiana del libro 2024. C'è anche una città siciliana tra le cinque finaliste, si tratta di Trapani. Vediamo tutti i dettagli nel servizio. La notizia che vede Trapani tra le cinque città finaliste per il titolo di capitale italiana del libro 2024 ci riempie di orgoglio e soddisfazione. Lo ha dichiarato l'assessore regionale ai beni culturali Francesco Paolo Scarpinato in vista dell'audizione decisiva con la Commissione del Ministero della Cultura. L'inclusione della città, ha aggiunto Scarpinato, in questa prestigiosa cinquina è un segno tangibile della ricchezza culturale e dell'impegno del territorio per la promozione della lettura e della conoscenza. Un riconoscimento simile potrebbe essere lo stimolo per lo sviluppo di programmi educativi innovativi, per incoraggiare la partecipazione civica e favorire l'inclusione sociale, creare nuove opportunità di crescita. Trapani non è nuova a questo tipo di riconoscimenti, sono nuove infatti i comuni della provincia che hanno ottenuto dal Centro Nazionale per il libro e la lettura alla qualifica di Città che legge 2022-2023. Risultato conseguito anche grazie al lavoro della Soprintendenza per i beni culturali e della rete bibliotecaria Bibliotrapani che hanno promosso l'adozione dei patti per la lettura e che hanno realizzato una mappatura delle iniziative culturali dando vita alla rete delle rassegne e dei festival letterari. Alla capitale del libro 2024 verrà assegnato un contributo di 500.000 euro per la realizzazione di progetti culturali. Le altre città finaliste sono Grottaferrata nel Lazio, San Mauro Pascoli in Emilia Romagna, Tauria Nova in Calabria e Tito in Basilicata. La commissione del Ministero della Cultura dovrebbe proclamare la città vincitrice entro febbraio. Parliamo di calcio e del Palermo che ha presentato in conferenza stampa l'ultimo colpo di mercato appunto per rafforzare la difesa è arrivato Salim Biachite. Sentiamo le sue prime parole da calciatore rosanero. Quest'estate, l'estate scorso c'era qualcosa ma alla fine non è andato al termine. Ho avuto un po' di contatto diciamo con il direttore Rinaudo e alla fine sono rimasto là e oggi sto qua. Cosa rappresenta il Palermo per me? Io la mia prima partita da professionista l'ho fatto contro il Palermo. Quindi io credo in Dio, credo in queste cose. Secondo me era il destino. Oggi come prima, anche prima che andava giù il Palermo in serie di tutto, il Palermo è Palermo, tutti lo sanno. A Ternano io sono arrivato due anni e mezzo fa, mi sono trovato benissimo, ma davvero benissimo e perciò voglio ringraziare, me ne approfitto per ringraziare tanto a Ternano e ai Ternani. Ho fatto due anni e mezzo, sono cresciuto e per me era il momento di fare un salto, diciamo, un salto e per me questo salto l'ho fatto. so dove ho voluto stare, so qui. No, a me mi piacciono tutte e due. Su questo non so come rispondere. Mi piace fare sia il tersino, sia il difensore centrale. Io gioco dove serve il mister. L'importante è che dove gioco il mister sa che quando io vado là che so farlo. Questo è importante, è di stare in campo. Dalla regione siciliana, oltre 2 milioni di euro per ristrutturare 13 teatri siciliani. Vediamo il servizio. Oltre 2 milioni di euro per riqualificare 13 teatri siciliani. Questo l'importo previsto da un decreto dell'assessorato regionale dei beni culturali che impegna le somme per lo scorrimento della graduatoria che era rimasta priva della copertura finanziaria. Si tratta di interventi destinati alla ristrutturazione, al ripristino e alla messa in sicurezza degli edifici. Attraverso questi fondi, afferma l'assessore Francesco Paolo Scarpinato, preserviamo luoghi simbolo dei territori e al tempo stesso mettiamo in circolo economie consentendo a tecnici, aziende e operatori del settore di prestare la propria opera. Le somme, che ammontano complessivamente a 2,34 milioni di euro, sono già disponibili e i beneficiari possono già avviare le procedure di spesa. Nel dettaglio le province destinatarie sono a Grigento con l'ex cinema Odeo nella sala teatro Luigi Pirandello, nel cerchio del caos, il teatro ex chiesa di San Libertino, a Caltanissetta il teatro antidoto di Gela, il teatro Gaudium della Casa del Fanciullo di Campofranco, a Catania invece il piccolo teatro della città, il teatro Grotta Smeralda e l'ex cinema Palumbo di Paternò. Messina invece annovera il cineteatro comunale di Aurora di Sant'Agata di Militello, a Palermo il teatro Santa Cecilia, a Ragusa il teatro di Donna Fugata, a Siracusa la sala concerti AFAM di Floridia e infine a Trapani il cineteatro San Gaetano di Pantelleria. È tutto, a più tardi per una nuova edizione di Spazio Notizia.